Il fatto volontario del dottor Mazzeo, che l'amministrazione non può fare altro che prenderne atto, finisce qua. Senti, invece per quanto riguarda la breast unit, si riuscirà a farla qui a San Carlo? Allora, chiaremo un concetto. La breast unit è un approccio al problema della malattia delle donne, della psicologia. A breast unit sicuramente ci sarà una parte tra sui San Carlo, perché a breast unit è solamente un'attività sul percorso, un'attività di percorso che viene garantito in questo ospedale. Poi sicuramente ci sarà un discorso regionale, non attira a me questa responsabilità, ma sicuramente ci sarà.